Proteggi la tua casa con la barriera di protezione totale Verisure. I nostri shock sensor certificati con esclusiva tecnologia Verisure vengono posizionati su tutte le porte e le finestre vulnerabili per creare una barriera di protezione totale della tua casa. L'esperto di sicurezza Verisure effettuerà insieme a te uno studio di sicurezza della tua proprietà per identificare tutti gli accessi vulnerabili e personalizzare la tua barriera di protezione totale. Dormi i sogni tranquilli, attivando o programmando l'attivazione della modalità notte prima di andare a dormire. La barriera di protezione totale farà scattare l'allarme in caso di tentativo di intrusione. In caso di intrusione, le nostre guardie giurate riceveranno le immagini dei rilevatori di movimento con fotocamera e ascolteranno l'audio dell'evento in diretta. Le nostre guardie giurate sono formate per rispondere in meno di 60 secondi e intervenire immediatamente. Grazie all'avanzato processo di doppia verifica per immagini, video e audio, filtrano tutti i falsi allarmi e identificano gli eventi reali. Zero Vision Barriera di Fumo è un esclusivo dispositivo che crea una condizione di visibilità zero in meno di 45 secondi. Gli intrusi saranno messi in fuga immediatamente. Le guardie giurate della nostra centrale operativa allerteranno le forze dell'ordine e condivideranno con loro le immagini dell'evento per un intervento ancora più rapido ed efficace. Grazie a tutti i nostri spettatori